L'associazione What Women Want ha promosso una interessante iniziativa proprio per creare un gruppo di lavoro, un tavolo tecnico e fatto anche di amministratori locali e di operatrici dei consultori perché si arrivi non a indebolire la rete dei consultori che è quello che sta avvenendo con i nuovi atti aziendali, ma anzi a irrobustirla, implementarla, potenziarla perché le donne ma le famiglie tutte hanno bisogno di consultori radicati territorialmente che funzionino e che aiutino le famiglie, anche le nuove famiglie di immigrati a affrontare le problematiche di tipo psicologico ma anche sanitario per quelle che sono le loro competenze. Grazie